Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo video! Sì, un video molto diverso da tutti gli altri! Come potete vedere ci sono tutte le mie verdure! Vie, mie! Ho fatto la stesa e oggi vi faccio vedere cosa preparo con queste verdure! Allora, ci sono tutti gli ingredienti che ci servono! C'è peperoni, zucchine, che sono 4, 4 carote, 2 cipolle e 3 pomodori! Con questo ci verrà fuori un mega, un mega cibo molto buono! Per chi non piace qualcosa, è ovvio che non è un problema! Ma detto ciò, io potrei anche iniziare il video, no? Voi mi domanderete perché Alice ora fa questo video? Perché sto lavorando delle cose mie però intanto vi faccio vedere cosa verrà fuori in tutto questo! Quindi, molto presto comunque, Alice, la vostra Alice sta pensando a tantissime cose da fare perché ho molte idee e molte idee che lo voglio fare anche con voi quindi molto presto vi dirò tutto cosa mi sto nascondendo, cosa voglio fare, i miei progetti e tutto questo ci sarete anche voi! Per me si può anche iniziare subito questo video Si inizia? E ecco qua Ho fatto tutta perché ora accendiamo il gas io ora sta così per un po' d'ore fino a che non è tutto pronto il risultato dopo intanto è così con olio e ora lasciamolo così ragazzi questo è il risultato si prima era fino a qua e poi una volta che è alimentato così a parte che l'ho già mangiato però è venuto delizioso con questo noi ci vediamo prossimo video e a venerdì anche se ho pubblicato questo video molto tardi ciao vi voglio bene e seguitemi su instagram perché ti sono novità super bombe per noi ciao vi adoro